Abbiamo fatto un piano che parla di autonomia, indipendenza e libertà perché noi non vogliamo che le donne che decidono di uscire da relazioni di violenza vengano vittimizzate, colpe violizzate e violentate doppiamente. È successo pochi giorni fa il caso delle due donne e due ragazze americane che sono state praticamente sequestrate in un commissariato, noi nel nostro piano parliamo anche di violenza istituzionale e di come affrontare questo problema, insieme a molti altri punti che riguardano come affrontare la violenza maschile, però come problema strutturale di questa società. Dopo questa grande manifestazione e questa grande giornata, cosa prevede il percorso? Il percorso prevede subito di rivedersi il giorno dopo, domani ci incontreremo alla facoltà di psicologia a Roma per rincontrarci a livello nazionale e discutere i prossimi passi di mobilitazione del piano.